Il sistema informatico SIX Laundry è una completa soluzione di tracciabilità che consente di gestire in maniera completa e puntuale la distribuzione dei capi di biancheria confezionata, sia standard che personalizzata, e degli zoccoli in dotazione agli operatori sanitari. Nella parte superiore del flusso sono evidenziati i processi gestiti dal sistema presso la lavanderia, mentre nella parte inferiore quelli gestiti presso l'azienda ospedaliera. Il sistema consente l'importazione dell'elenco dei dipendenti tramite file Excel. Per ogni dipendente viene creata apposita una grafica contenente tutti i dati di riferimento, tra cui in particolare l'asero di attività, la qualifica, la data di presa taglia e la data di prima consegna dei capi. Lo storico registra tutti quei cambiamenti che possono coinvolgere le dotazioni in carico all'operatore, ad esempio un cambio di ruolo o reparto. La sezione dotazioni elenca tutti i capi e zoccoli in dotazione al dipendente con le relative quantità. Nei componenti, invece, è possibile verificare lo stato dei capi e degli zoccoli assegnati ed effettuare eventuali blocchi o dismissioni di alcuni degli articoli indicati. Per ogni reparto, qualifica e sesso, il sistema consente la codifica delle dotazioni, capi e zoccoli da assegnare agli operatori. Selezionato il dipendente per il quale si necessita eseguire la presa della taglia, il sistema propone tutte le dotazioni a suo carico e la selezione della taglia di riferimento. Il sistema consente l'associazione al dipendente sia di capi standard che di capi personalizzati. I capi dotati di chip vengono letti e informaticamente associati al dipendente. Per quelli non cippati viene creata manualmente l'anagrafica e si procede all'associazione con il dipendente. Al termine dell'assegnazione, per i capi personalizzati, viene stampata la relative etichetta identificativa. Tutti i capi lavati vengono letti dalle antenne presenti in lavanderia e informaticamente segnalati come spedibili per la successiva gestione in area spedizione e l'invio al cliente. Selezionata l'azienda ospedaliera di riferimento e di guardaroba, il sistema visualizza tutti i capi spedibili ed è possibile procedere con l'emissione degli diti di consegna. Grazie a tutti. Selezionato il capo, il sistema consente di gestirne il reso e la relativa causale. I capi puliti arrivati in guardaroba vengono identificati tramite lettura del codice barcode presente sull'editi di consegna. Successivamente, il sistema acquisisce i dati letti dalla cabina e verifica i quantitativi effettivamente pervenuti rispetto a quelli indicati nella bolla di consegna, evidenziando eventuali note o errori. La consegna dei capi può essere veicolata tramite distributori automatici o essere effettuata direttamente dai guardaroba in reparto. Six Laundry è interfacciato ai distributori automatizzati tramite web service ed è quindi possibile acquisire i dati relativi a carichi del distributore, prelievi effettuati dal dipendente, riconsegna dello sporco. All'alto del perlievo del materiale, il distributore consente la visualizzazione dei crediti residui del dipendente, ossia il materiale ritirabile sulla base delle dotazioni definite. In guardaroba, invece, i capi vengono letti tramite le antenne di identificazione al momento della consegna al personale dipendente. Il materiale sporco viene letto in maniera massiva attraverso l'utilizzo di cabine di lettura con conseguente generazione del DDT di reso. L'identificazione dello sporco riconsegnato avviene inoltre grazie ai dati acquisiti dagli apparati di riconsegna posti in reparto. A seguito dell'acquisizione dei dati, il sistema consente la creazione del DDT di reso alla lavanderia. Tutti gli stati del materiale, i prelievi e le restituzioni, anche effettuati tramite gli apparati, vengono tracciate dal sistema con conseguente aggiornamento in tempo reale delle relative anagrafiche. Il sistema visualizza inoltre tutti i caricamenti dei capi nei distributori ed il relativo scarico al momento del perlievo. Il sistema visualizza inoltre grazie ai dati acquisiti dagli apparati, vengono tracciate dal sistema con conseguente aggiornamento in tempo reale delle varie 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 delle varie.